Un grande traguardo è stato raggiunto dalla primavera 3 di Mr. Biancolino. I Lupacchiotti con la vittoria per 3-0 sul campo della Fermana conquistano il primo posto matematico nel girone B con due turni di anticipo. La doppietta di Sacco, il gol del solito Fusco, giunto a quota 51 reti con la maglia dell'Avellino, ha non sancito quello che è stato un cammino davvero corazzata per gli Irpini che hanno dettato legge dall'inizio alla fine. 15 vittorie, 5 pareggi e solo 2 sconfitte, in mente due gare giocate per i ragazzi di Biancolino con la migliore difesa del torneo e il secondo attacco del girone. Un lavoro quotidiano e meticoloso da parte dello staff tecnico e della società del presidente D'Agostino che dal suo arrivo ha sempre dato grande importanza al settore giovanile. Il primo posto nel girone consente all'Avellino di giocarsi direttamente la finalissima per approdare in primavera 2 un traguardo che sarebbe storico al culmine di una grande cavalcata. La primavera 3 quest'anno ha visto tra l'altro l'impiego in prima squadra di alcuni ragazzi come il difensore Susco e il terzino Mundula in Coppa Italia sotto la guida di Mister Pazienza ma anche la convocazione di Bomber Fusco e di Palamara. Insomma, grande sinergia con la prima squadra e una vittoria del campionato arrivata dopo la bella figura al torneo di Viareggio una stagione da incorniciare per Mister Biancolino e la sua formazione comunque vada nella finale.